Rock Island di 28, ce n'è uno, dopo loro non c'è più nessuno, la Ballantine Band con questo spettacolo, Rock Age, io c'ero e tu, in effetti c'ero anch'io, giusto? E tu c'eri perché tu sei più vecchio, noi invece l'abbiamo studiato sui libri. Io c'ero perché ti ho dato la voce, testina di vita. Ah, in quel senso? La battuta era. Ah, ecco la battuta, allora vabbè, dopo la taglio. Sì, sì, c'è anche la partecipazione di Leonardo che ci ha fatto un cameo, mi chiamavano il cameiere. Avevamo bisogno della voce di un anziano alcolizzato, abbiamo trovato Leonardo e niente, è una sorpresa, comunque ti si riconosce bene. Senti, oltre a prendere per il culo in questo spettacolo, cosa succede? No, ripercorriamo un po' la storia del rock dai primissimi anni 50 fino ad arrivare ai giorni nostri, con dei video in sincro, con dei racconti, è molto interessante, anche molto istruttivo. È uno spettacolo nuovo perché voi l'avete rinnovato? È uno spettacolo nuovo che abbiamo fatto un paio di anni fa per i teatri lì, è predisposto per i teatri, quindi è una nuova veste, è stata formulata per le feste, per i pub, le feste di piazza. Senti, oltre a Roberto Tiezzi detto il ciucca, che via con il volo. Va detto, va fatto l'elenco. Eh, certo. Allora c'è Roberto Bicchi detto... E se è una carina, perché te pensi che quando ci siete basta. Io pensavo... Roberto Bicchi detto il dumbo. Dentro il dumbo. Poi c'è Elisa Veschi, crostino. Che come mangia? No, perché è buono, è stato con la sopravviata crostino, mangia molto, mangia molto. Strano perché è esile. Esatto, quindi crostino. Poi c'è Alessandro Gallorini detto il slavo. Il slavo, bello. A me così mi è stato riferito. Questo sopravviaticale è bellissimo. È così. E poi c'è Alessandro D'Ambrosio a fare il fonico, insomma che ha anche collaborato alla preparazione. Io sono Carlo Ballantini, lui è Roberto Tiezzi detto il ciucca. Ovviamente loro, la Ballantyne Band, sono anche su Facebook, hanno il loro sito che è Ballantyne.it Ballantyne o Ballantyne Band? Ballantyne.it Ballantyne.it Ti trovate, scegliete tra Luischi e loro. No, basta togliere la S. Noi siamo singolari. Molto, siamo sempre stati singolari. Vi consiglio di vederli perché? È bello, è bello. Perché sono bravi, sono bravi. Giusto? Perché devono venire? No, infatti volevo dire anche un'altra cosa. Noi proviamo che è bravo lui. No, vuol dire che tra i nomi possiamo menzionare anche Elena Navini di Grupo Radio che fa delle voci fuori campo. Anche lei, infatti ieri me lo disse, ero a Radio Grupo e mi disse guarda che faccio delle voci fuori campo anch'io. E poi anche quelli che ci hanno aiutato nella prima fase che sono Andrea Squarcialuppi che è un batterista e Riccardo Presentini alla chitarra. Ci hanno aiutato nella prima fase ma non sono presenti in questa seconda. Comunque c'è anche la voce di Pupo. Quella è un cameo, non lo dovevi dire. Ah no? No, non è la voce. Cioè sembra di Pupo perché è un basso. Sentite il vocione che è basso. Ora sarà tutto l'ospettacolo di Londra. No, è bello. Tanto è l'ultimo. Cioè della buona, speriamo, musica dal vivo insomma è fatta bene. Però c'è anche... Suoniamo sincronizzati con i videoclip originali dell'epoca, raccontiamo aneddoti, storie curiose, insomma retroscena. È una prova di capacità, è una prova di capacità perché loro sono, che siano dei bravi musicisti l'hanno dimostrato. Ora ci lecchi così, però è divertente per il pubblico, no per noi. È proprio il pubblico che si diverte a vedere, capito? Noi siamo bravini, ma non è quello. Cioè, capito, sono anche fortunati perché suonando di merda via via hanno avuto questo successo. Insomma, se volete vedere una cosa a cazzo andate domani sera. Però il pubblico si diverte. Dov'è questo locale? Rock Island è via Ferraris, l'ex lago Lebole, presente nella zona dogana, aste giudiziaria. Non ti ho mai sequestrato niente? No, assolutamente. Va bene. Fa piacere avere della gente che ti stima così. Scusami Regina. Sì, è un po' più chiare. Anche con l'ombrello se vuoi. Ah, ecco. E niente, vi presentiamo. Ciao Leonardo.